Ci sono novità anche per la cura della miastenia e non solo. Ce ne parla l'ottor Renato Mantegazza, presidente dell'associazione AIM. Neuroimmunology lectures organizzate grazie ad AIM, associazione italiana miastenia. Che cosa mirano? Mirano a informare medici, biologi, gli scienziati in generale su quelli che sono gli avanzamenti nei vari settori della neuroimmunologia e soprattutto neuroimmunologia traslazionale, cioè il contatto tra il lavoro di laboratorio e l'applicazione clinica. L'associazione AIM è molto vicina ai pazienti. Quali sono le attività che svolgete? Fondamentalmente facciamo un'attività di formazione, di informazione della malattia e di assistenza ai pazienti. Su questo si inserisce l'attività di ricerca, che è un'attività di ricerca che si svolge principalmente all'Istituto Neurologico Carlo Besta. Per quanto riguarda le tematiche trattate in questa sessione importante, gli esperti a livello internazionale che cosa fanno emergere? Allora, la prima cosa importante è che ci sono dei trattamenti che sono in comune a diverse patologie anticorpo mediato. La miastenia è una malattia anticorpo mediata, ma ha anche la neuromielite ottica e quindi si possono usare trattamenti che sono del tutto condivisi. Ci sono delle innovazioni nella diagnosi differenziale? Sicuramente un grosso impulso è stato dato dalla scoperta degli anticorpi antiacqua porina e più recentemente degli anticorpi contro una proteina della mielina che talvolta è associata, talvolta no e quindi adesso c'è un dibattito se la presenza di questi due anticorpi identifica due patologie differenti. All'interno della giornata parlate anche di tumori, parlate anche di diagnosi, cure. L'interazione con gli oculisti aiuta in che senso? L'interazione con gli oculisti è molto importante perché molte delle malattie neurologiche esordiscono con un sintomo per cui gli oculisti sono chiamati in prima battuta a visitare i malati e quindi è molto importante una collaborazione tra oculisti e neurologi.